Il centrocampi celeste di San Martinese, che domenica ha giocato un'ottima prestazione contro la Crevolese, il risultato non è stato dei migliori, qual è stata la loro chiave della vittoria e dove noi possiamo migliorare per riuscire ad arrivare a ottenere più punti durante il corso di questa stagione? Diciamo che loro durante la partita sono stati più grintosi, hanno messo più grinta in campo, noi abbiamo sbagliato parecchi gol, però secondo me nella prossima ci possiamo rifare. Su quella partita quali sono stati gli episodi che secondo te possono aver deciso la partita, sia in positivo sia in negativo? Diciamo che loro hanno fatto praticamente un tiro in porta, sono stati più concreti rispetto a noi, cioè, bisogna essere più concreti davanti alla porta. Perfetto, in virtù di tutto l'andamento stagionale, una buona partenza, con un calo seguente, in virtù anche degli allenamenti di questa settimana, come vedi la sfida contro il Premosello di domenica? Squadra comunque ostica che ha un punto in meno di noi in questo momento, è la stagione. Ci siamo allenati bene durante la settimana, il mister ce l'ha fatta preparare bene, e secondo me possiamo fare bene. Grazie mille e buona serata. Grazie mille e buona serata.